L'abbiamo trovato il generale Swain Hart, questo grosso maialone, ma preferisce non sporcarsi le mani con noi, per questo scappa via con il suo robot gigante. Riordatevi che abbiamo fatto il ritorno a Zephyrus, ma purtroppo c'è la città schiava e a me non piace per niente. Vediamo di fare questo livello e alla svelta, subito, immediatamente, non perdiamo tempo a chiacchierare. Mi sa che questi saranno gli ultimi maiali che affronteremo ragazzi, alcuni maiali stanno facendo un ultimo tentativo per fermarci, ma noi eliminiamo e si continua. E attenzione anche all'acido. Se riusciremo a superare questo livello presto affronteremo il boss finale, presto sconfiggeremo il generale Swain Hart. Mi raccomando ragazzi non mancate al prossimo video. Riordatevi che noi ci vediamo nel prossimo video quando affronteremo il boss finale. Ma per ora concentriamoci con questo livello. Quando azionate l'interruttore arrivano queste cose, queste piattaforme. Però le dovete superare con il jetpack. Avete visto con il jetpack e la spada rimbalzate sulle pareti, ma dovete fare in fretta. Questo nemico elettrico io non lo sopporto. Ecco, ora qui c'è un guaio grosso. Per raggiungere quella porta aperta, io devo passare su queste piattaforme. Ma non ce la faccio. Vediamo quanti tentativi devo fare. Questa è l'unica via, l'unica strada. Oh, ce l'ho fatta. Bisogna avere fortuna impazienza. No, gli interruttori sono numerati, hanno un limite di tempo e le piattaforme spariscono tutte e tre. Ora qui ci sono interruttori limitati e un limite di tempo. Quando sono arancioni lampeggiano. Scusate, mi sono distratto. Ah, c'era ad azionare i tre interruttori. ora sì che ci siamo. No, ho sbagliato tutto. Mi è andato benissimo. Vabbè, rinunciamo da capo. Oh, finalmente checkpoint. Questa è l'ultima volta che raccogliamo diamanti rossi e blu per far aumentare il punteggio e non solo. Per fortuna sarà anche l'ultima volta che dovremo affrontare questi maiali e non ne posso più. Ora vi do un consiglio. Se questo robot è protetto da una barriera, distruggete quel dispositivo che ha sulla schiena. Una volta distrutto colpite il maiale che lo sta pilotando. Voglio finire il livello. È alla svelta. Ah, un altro checkpoint, finalmente. Io la vedo dura questa volta. Dobbiamo raggiungere i dirigibili. È alla svelta. Il generale Swain Hart sta aspettando noi. Abbiamo fatto bene a fare il ritorno a Zephyrus. Vi do anche una brutta notizia. Purtroppo questa avventura non è ancora giunta al termine. non è ancora finita. Avete visto? Siamo suddirigibile. Ora bisogna star tenendo i propulsori. Sono felice di dirvi che questo è il penultimo livello che facciamo. Nel prossimo video guarderete come è fatto l'ultimo. Sì, ma quanti dirigibili dobbiamo fare? Avete visto? I dirigibili ci danno un passaggio. Non ci sto capendo nulla. Non ci capisco più niente. Dove sarà il traguardo? Dov'è la fine del livello? Forse sarà questo? Non lo so. Comprendetemi in giro. Adesso abbiamo finito il livello. Vi aspetto nel prossimo video ragazzi. Non mancate. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace. Come sempre. Potete un dividerlo. Vabbè, ciao a tutti. Sono molto felice e contento mi avete seguito fino alla fine del video. Ci vediamo nel prossimo video con lo scontro finale. Non mi stancherò a dirlo. 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 Grazie a tutti.